Amiche e amici di Habitat, ciao ben ritrovati, siamo qua per la seconda puntata di Artflix come promesso, prima di partire però volevo ringraziarvi per tutti i commenti, per tutti i ringraziamenti che ci avete fatto e siamo davvero felici che questa cosa vi stia piacendo perché sta piacendo tanto anche noi, quindi partiamo! Grazie a tutti! C'eravamo lasciati, se vi ricordate, con la storia di Giovanni I Bentivoglio che nel 1401 pur essendo figlio di una famiglia di beccai, di macellai, era riuscito a prendere il potere di Bologna. Come c'era riuscito? Da solo perché i bolognesi lo amavano, no assolutamente i bolognesi non lo amavano, non tutti perlomeno, c'era riuscito perché si era alleato con una famiglia molto importante che era quella dei Visconti di Milano, in particolare con Giangaleazzo Visconti. I Visconti era parecchio tempo che cercavano di mettere le mani su la città di Bologna e c'erano anche riusciti qualche anno prima e tant'è che gli era rimasto così il sassolino nella scarpa del potere su Bologna e quindi appena avevano sentito che c'era questo personaggio che veniva dal nulla, quindi che non aveva nessun tipo di coinvolgimento con gli equilibri politici dell'Italia di quel tempo avevano subito colto l'occasione e avevano inserito un piedino all'interno del governo della città. Dura molto poco questo sodalizio con i Visconti perché all'inizio del 1402, quindi pochissimo tempo dopo, Giovanni I, ben ti voglio, fa il suo primo errore ed è un errore piuttosto grossolano. Cosa succede? Dalla città di Firenze arriva una delegazione con un corredo di sacchi di monete d'oro a chiedere l'alleanza a Giovanni I e Giovanni I si allea tranquillamente con i Fiorentini, non sapendo o forse consapevolmente ignorando che i Fiorentini erano un nemico dei Visconti di Milano da parecchio tempo e quindi cerca di mettere così il piede in due scarpe, sperando forse che a Milano la notizia non arrivasse. Ecco, non aveva calcolato che Nanne Gozzadini, che era il signore che prima di lui aveva il potere sulla città di Bologna e che quindi Giovanni I aveva spodestato, non calcolando che Nanne Gozzadini avrebbe fatto la spia. E infatti è proprio lui ad andare da Giangaleazzo a Milano a raccontare che Giovanni I si era alleato con i Fiorentini. Giangaleazzo la prende molto male e decide di muovere guerra alla città di Bologna. Cosa significa muovere guerra a una città in quel tempo, con quegli equilibri politici nell'Italia delle signorie? Significa innanzitutto andare a chiamare a raccolta tutti i suoi alleati e vedere chi ha gli schieramenti più importanti, più grossi. Siamo all'inizio dell'estate del 1402 e Giangaleazzo Visconti insieme a tutti i suoi alleati cominciano ad assediare la città di Bologna. Si pongono fuori dalle mura, senza dubbio, ma in una posizione particolarmente strategica perché decidono di mettersi fuori dal fiume Reno. Il fiume era particolarmente importante a quel tempo perché la chiusa di Casalecchio già era in funzione e dava così l'acqua ai canali della città di Bologna permettendo di fatto che la città vivesse, che facesse le sue attività e che riuscisse ad avere approvvigionamento di acqua e si pone in quel punto dove ora c'è via della Bastia, la zona si chiama la Canonica perché c'era anche una Canonica, c'è anche via dei Canonici Renani infatti, perché c'era una Canonica di questi Agostiniani che avevano deciso di mettersi là perché la chiesa che avevano precedentemente, che era quella di San Salvatore a Bologna, era troppo poco tranquilla. C'erano talmente tante guerre intestine nella città di Bologna che avevano deciso di uscire dalle mura per mettersi in una zona più di campagna, più tranquilla, più serena e cioè proprio nella zona di via della Bastia. Ma perché si chiamava via della Bastia? Perché proprio lì c'era un castello e non era casuale che fosse lì, quello era il punto più facile da guadare e quindi quella che i nemici avevano come obiettivo strategico per entrare all'interno della città. Ed è proprio lì che si mettono le truppe di Giangaleazzo Visconti e di tutti i suoi alleati che assediano la città per qualche mese. Siamo all'inizio dell'estate del 1402 e dall'altra parte del Reno ci sono le truppe di Giangaleazzo con le truppe dei Malatesta di Rimini e le truppe dei Gonzaga da Mantova che si erano portati dietro anche le città di Carpi, di Sassuolo, di Spoleto, più tutta una serie di fuoriusciti dalla città di Bologna che non erano d'accordo con il governo di Giovanni I Bentivoglio che quindi non vedevano allora che qualcuno arrivasse a spodestare il nostro povero Giovanni I. Le truppe erano numerosissime, c'erano veramente tantissimi soldati che minacciavano di entrare in città. La battaglia scoppia il 26 di giugno del 1402 quando finalmente gli assedianti riescono a attraversare il fiume e Giovanni I si era preparato e quindi è arrivato con le sue truppe a cercare di contrastare questa avanzata. Le sue truppe naturalmente contavano i fiorentini perché erano quelli che avevano dato inizio a questa guerra e contavano anche i padovani ma erano truppe assolutamente minori. Al capo delle truppe di Giangaleazzo Visconti non c'era lui in persona bensì un suo capitano di ventura che si chiamava Giovanni dal verme che insomma non scherzava assolutamente. Dall'altro lato c'erano le piccole truppe dei Bentivoglio insieme con i fiorentini e con i padovani che erano capitanate da questo Bernardone di Guascogna che già dal nome non ci fa pensare a cose molto guerrigliere bensì Bernardone di Guascogna non lo so a me fa pensare a un'osteria più che altro e la compagnia più temibile che c'era dall'altro lato del Reno dalla parte della città era una compagnia di fiorentini che si chiamava la compagnia della Rosa anche questo non era particolarmente terrorifico come nome e infatti quando il 26 di giugno del 1402 le truppe di Giangaleazzo riescono ad attraversare il fiume Reno la disfatta è completa e totale numericamente sono molto più importanti e quindi le truppe dei Bentivoglio vengono distrutte intanto nel frattempo Giovanni Bentivoglio sta tranquillamente in casa sua a Bologna quindi sta al sicuro e quando sente che la battaglia sta perdendo la battaglia in questa maniera così terrificante decide di chiamare a raccolta le 200 guardie che lui aveva personali quindi la sua la sua guardia personale che era composta da 200 persone gli rispondono un decimo cioè uno su dieci dice va bene vado a fare questa battaglia per te non era molto amato già Giovanni I Bentivoglio e tant'è che non ci arrivano nemmeno fino a Casalecchio perché nella zona del Meloncello queste 20 insomma nipolo di 20 guardie personali incontrano quelli che stavano scappando già dalla battaglia e che arrivano correndo dall'altro lato dicendogli è una disfatta lasciate perdere perché andate a lasciarci le penne sicuramente e quindi anche le 20 guardie personali di Giovanni I girano letteralmente i tacchi e tornano a Bologna ecco capite che in quel momento Bologna non era un posto molto sicuro per Giovanni I che infatti si vede assediato da tutti i punti di vista e viene addirittura consegnato alla furia popolare dei cittadini bolognesi letteralmente nel senso che viene portato in piazza maggiore e tutti i bolognesi che già lo odiavano abbastanza prima si sfogano su di lui e gli fanno fare una fine terribile tant'è che dice la leggenda che c'era addirittura un barbiere che ce l'aveva tanto con lui che gli stacca un orecchio e minaccia di farci una bracciola ecco Giovanni I ben ti voglio purtroppo ci lascia così potremmo pensare che questa sia la fine dei bentivoglio e invece no è solo l'inizio perché a Bologna rimane il figlio di Giovanni I che si chiama Anton Galeazzo in quel momento naturalmente non può restare così libero nella città di Bologna ma decide di andare ospite dagli amici Malvezzi a Castelguelfo e nel frattempo fa la sua vita di giovane normale sappiamo che si laurea perché c'è il suo documento di laurea e sappiamo che ha una moglie che era una Gozzadini quindi se vi ricordate era della famiglia di nanne Gozzadini quello che Giovanni I aveva spodestato e che era andato a fare la spia dai visconti un po' per calmare le acque probabilmente Anton Galeazzo sposa sua figlia ma nel frattempo ha anche diverse amanti una di queste amanti un giorno ha un figlio maschio e non si sa bene di chi sia e quindi il suo amico Gaspare Malvezzi e Anton Galeazzo si giocano la paternità ai dadi e vince Anton Galeazzo che quindi da quel momento in poi ha un figlio maschio che si chiamerà Annibale Bentivoglio prendetevelo e ricordatevelo per le prossime puntate nel 1416 Anton Galeazzo decide che i tempi sono maturi per tornare all'attacco a Bologna non ci torna come signore Bentivoglio ma ci torna a capo di uno schieramento che si chiama lo schieramento dei riformatori quindi a capo di un'alleanza di diversi giovani diverse famiglie che decidono di ribellarsi contro l'antipapa Giovanni XXIII ci riescono arrivano al potere della città ma le cose non sono tranquille perché come potete immaginare all'interno della stessa Bologna ci sono fazioni diverse che desiderano l'alleanza con uno o con o con l'altro e quindi nel 1420 Anton Galeazzo fa il suo di errore e dopo una rivolta interna decide di mandare in esilio l'intera famiglia dei canetoli e di impiccare alcuni dei suoi avversari politici l'impicca sulle mura del palazzo del podestà di cui vi ho parlato la volta scorsa questa impiccagione così diretta così a sangue freddo non piace affatto ai bolognesi che lo cacciano dalla città da quel momento in poi Anton Galeazzo sarà un po' ramingo perché va prima a rifugiarsi a Castel Bolognese insieme agli esiliati e ai banditi addirittura e poi decide di intraprendere la professione di capitano di ventura la stessa che aveva fatto Giovanni dal verme per Gian Galeazzo Visconti diventa capitano prima dei fiorentini poi dello stato pontificio fa un po' di di guerre così un po' a caso fino a che nel 1435 decide che è ora di smettere con questa professione e di tornare nella città di Bologna rientra a Bologna senza velleità di governo rientra e basta a vivere forse stava aspettando il momento giusto per ritornare all'attacco tant'è che il legato papale il vescovo che allora stava a capo della città non è convinto di questo ritorno così pacifico e lo lascia sopravvivere la bellezza di 19 giorni allo scoccare del diciannovesimo giorno gli manda un messaggero che gli dice che era desiderato nel palazzo comunale. Anton Galeazzo prende e va a sentire che cosa gli deve dire il vescovo Daniele Scotti il quale lo lascia salire le scale di palazzo comunale e una volta arrivato in cima lo fa decapitare e così finisce anche la storia di Anton Galeazzo Bentivoglio il quale però ci lascia una tomba abbiamo mentre di Giovanni I Bentivoglio non c'è rimasto che un disegno forse che era il suo ritratto quindi sostanzialmente c'è rimasto molto poco di Anton Galeazzo abbiamo una tomba meravigliosa che viene affidata allo scultore Jacopo della Quercia. Jacopo della Quercia era uno scultore senese e si era trasferito a Lucca molto giovane si era trasferito da bambino con il padre ed aveva cominciato a fare lo scultore il padre era un intagliatore fino al momento in cui è stato esiliato da Lucca perché aveva picchiato a sangue un cittadino lucchese e quindi è costretto a spostarsi da un'altra parte. Inizialmente va a Firenze partecipa anche lui nel 1401 al concorso per la porta nord del battistero di Firenze che è un concorso importantissimo perché è l'inizio del rinascimento è il concorso a cui si presentano Ghiberti ma soprattutto Brunelleschi che crea la prima scultura con una concezione di prospettiva matematica quindi è un concorso importantissimo ci partecipa anche Jacopo della Quercia il quale però la sua formella con cui aveva partecipato a questo concorso non è rimasta. Da Firenze poi si sposta a Ferrara in cui nel 1403 crea la Madonna della Melagrana che dai ferraresi è chiamata la Madonna del pane perché pare che il bambino Gesù abbia in mano un pezzettino di crocetta ferrarese è meravigliosa. Lo stile che sta perseguendo Jacopo della Quercia è uno stile che potremmo chiamare gotico internazionale tant'è che viene spesso associato a uno scultore che si chiama Klaus Schluter che è uno scultore borgognone quindi della zona di Digione che è uno degli scultori più belli che ci sono in quel momento fuori d'Italia e in quanto è fuori d'Italia spesso viene dimenticato soprattutto dagli storici italiani ma è uno scultore meraviglioso che è appunto uno dei più importanti di questo stile che si chiama gotico internazionale perché appunto è internazionale. Da che cosa è dovuto? Diciamo che la caratteristica più importante sono queste linee molto eleganti che di solito si ritrovano così sinuose nelle vesti della Madonna e del bambino. Lo vediamo molto bene soprattutto nella Madonna della Melagrana o nella Madonna del panino di Jacopo della Quercia. Ecco proprio questo scultore è nel 1425 a Bologna perché era diventato particolarmente famoso dopo aver realizzato due sculture una a Lucca di nuovo che è il monumento a Dilaria del Carretto e l'altra è a Siena che è la Fonte Gaia che sta proprio all'interno di Piazza del Campo. I bolognesi lo chiamano per creare le formelle che stanno intorno al portale di San Petronio quindi nella chiesa principale della città e nel frattempo proprio nel 1435 decide di cominciare a creare anche il sarcofago, il monumento funebre più che il sarcofago di Anton Galeazzo Bentivoglio. Jacopo della Quercia morirà nel 1438 quindi poco dopo e il monumento si trova in questo momento nella chiesa di San Giacomo Maggiore ed è molto bello. Ha sulla parte principale le scene che spesso vengono rappresentate a Bologna, le scene di università quindi c'è il professore con tutti gli allievi intorno e sopra il gisan cioè la figura del ritratto quindi del proprietario del monumento funebre che appunto riposa e sopra ancora una madonna con bambino. È un monumento meraviglioso e lo stile di Jacopo della Quercia viene spesso dimenticato perché lo stile più importante all'inizio del 400 soprattutto se si parla di scultori tuscani è uno stile un po' diverso, lo stile appunto di Donatello, lo stile di Brunelleschi quindi uno stile molto più sobrio, molto più matematico, molto più pensato mentre quello di Jacopo della Quercia rimane appunto nella zona del gotico internazionale che fino a qualche tempo fa era vista un pochino arretrata. In realtà è un altro capitolo che si svolge parallelamente alla prospettiva matematica che invece stanno studiando più a Firenze e più in quella in quella zona. È tanto importante che sarà proprio Michelangelo a ricordare lo stile di Jacopo della Quercia perché sappiamo che Michelangelo da molto giovane fa un passaggio a Bologna in cui lascia qualche sculturina nell'arca di San Domenico e pare che abbia osservato molto bene anche i rilievi sulla facciata di San Petronio da cui dovrebbe aver preso questo stile, si dovrebbe essere ricordato quando nella Cappella Sistino, nelle sue opere più importanti, crea queste figure che si chiamano tecnicamente ipertrofiche e cioè con i muscoli molto accentuati. Ecco questa era già una cosa che Jacopo della Quercia aveva studiato quasi un secolo prima nel portale di San Petronio e che si ritrova anche nel monumento funebre di Anton Galeazzo Bentivoglio. Le storie di oggi finiscono qui, ci vediamo nella prossima puntata in cui vi racconterò altre storie di Bentivoglio e altre storie che vi prometto che non finiranno bene. Vi saluto, grazie e arrivederci alla prossima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.